Come abbiamo imparato a fare, creo una classe che io chiamerò classe di prova. Sono nella pagina iniziale. Comincio scrivendo qualche cosa ai miei alunni. Poi decido se voglio mandare il messaggio solo alla classe o, già che ci sono, anche alle altre e se mandarlo a tutti gli studenti oppure no. Insieme al messaggio poi io posso anche allegare dei contenuti. Come si può vedere qua ci sono tutte le icone che me lo permettono. Ad esempio se clicco sull'icona di drive si apre il mio drive dove metto i miei materiali e posso sceglierli comodamente da lì. Oppure decido che voglio allegare un filmato. Clicco sull'icona di YouTube e scelgo il video. Oppure inserisco già l'indirizzo se lo conosco. Una volta che ho preparato il mio post che qui è chiamato annuncio non è necessario che io lo invii subito. Se clicco vicino a pubblica posso scegliere se pubblicarlo immediatamente salvarlo come una bozza perché voglio poi modificarlo con calma in un secondo momento oppure programmare la sua pubblicazione addirittura scegliendo il giorno e l'ora di quando il mio annuncio sarà visibile a tutti i miei studenti. Ecco come appare la schermata iniziale. Ora è ovvio che in qualsiasi momento io possa avere dei ripensamenti. Allora clicco sui tre puntini e posso modificare o addirittura eliminare il mio post o copiare il link per poi utilizzarlo in un altro momento. Allora noi abbiamo visto lo stream cioè la pagina iniziale. Vediamo adesso la sezione in cui invece andremo a lavorare cioè lavori del corso. In questa sezione io assegno i lavori ai miei studenti. Allora se clicco su crea compare un menu a tendina da cui posso scegliere cosa fare. Cominciamo con assegnare un compito e vediamo che cosa succede. Allora dopo aver stabilito che lo assegno alla classe prova e a tutti gli studenti posso intanto decidere se assegnare un voto, un punteggio che stabilisco io oppure decidere che sarà semplicemente un'esercitazione senza una valutazione numerica. stabilisco una data entro cui il compito deve essere consegnato addirittura potrei anche segnalare l'ora massima di scadenza e come sempre posso decidere anche di allegare dei materiali. Se ad esempio voglio allegare un'immagine che avrò comodamente già salvato nel mio drive non faccio altro che cliccare l'icona di drive prendo il materiale da lì oppure prendo l'immagine e la lego trascinandola. Ecco i dati del mio compito tutti ricapitolati. Quindi per la classe, tutti gli studenti, titolo del compito, descrivi il tuo gatto, istruzioni, scrivi un testo in cui descrivi il tuo gatto seguendo le indicazioni che ti sono state date questa mattina. Ho deciso che il compito vale 100 punti che deve essere consegnato entro domani e gli studenti possono visualizzare questo file dove io ho messo una immagine che li può aiutare nella descrizione. A questo punto anche per i compiti posso scegliere se assegnarli subito se tenermeli un attimo in attesa oppure programmare la loro assegnazione stabilendo il momento in cui i miei alunni riceveranno l'avviso del compito. E anche per i compiti, se io clicco sui tre puntini posso modificare oppure addirittura eliminare quello che ho preparato. Questo è il compito come appare strutturato prima della pubblicazione perché vedete è ancora come bozza. Un'altra possibilità è quella di preparare un quiz. In questo caso dopo aver compilato come al solito i campi classe, studenti, titolo, istruzioni mi compare l'icona di Google Moduli. Cliccando sull'icona di Google Moduli vengo mandata direttamente all'applicazione Moduli. È un'applicazione che mi dà molte possibilità interessanti e quindi ci sarà poi un successivo tutorial dedicato esclusivamente alle funzioni base di questa applicazione. Poi ho una terza possibilità porre semplicemente una domanda. In questo caso io posso scegliere se chiedere una risposta breve oppure inserire una risposta a scelta multipla. Invece di assegnare un compito io avrei bisogno magari di dare semplicemente ai miei allievi del materiale. Come sempre anche qui ho molte possibilità per allegare i file. Uno di questi è aggiungere direttamente un link. Gli alunni cliccando sul link accederanno direttamente a una pagina web dove c'è tutto il materiale che può servire loro magari per una ricerca o per un approfondimento. materiale che io non avrei potuto caricare in altro modo. Ecco come mi appare la pagina dei lavori. Allora qui ci sono tutti i compiti che ho preparato. La descrizione del gatto, la domanda e il materiale, in questo caso l'articolo su una pagina web. Cliccando su cartella drive del corso entro direttamente nella cartella drive della classe. Perché la cosa importante e interessante è che tutto quello che io pubblico nella classe tutto il materiale che io allego viene automaticamente salvato in drive. Quindi io in qualsiasi momento posso entrare nella cartella drive della classe e recuperare il materiale che ho allegato.